Quanto spazio lasciare ad un uomo che state iniziando a frequentare? Spesso mi fate questa domanda e la risposta è molto semplice, tutto lo spazio che vuole, ma non tutto lo spazio nella vostra vita, tutto lo spazio nella sua vita. Vuole uscire tutte le sere con i suoi amici e non uscire con voi? Perfetto! Vuole chiamarvi una volta al giorno? Perfetto! Lasciategli fare tutto quello che vuole che riguardi la sua vita e so che può sembrare un controsenso ma vi spiego il motivo. Se l'uomo ha desiderio di sentirvi, di stare con voi, lo farà. Se non lo vuole fare non sarà il fatto di chiederglielo a fargli cambiare idea, anzi esattamente il contrario, lo farà fuggire perché per gli uomini la libertà è molto importante. Al contrario se gli viene spontaneo stare con voi, benissimo, sentirà ancora di più che una sua scelta perché voi non glielo chiedete oppure terzo caso, è ancora in una via di mezzo, non ha capito bene se gli piacete di più o di meno e di certo reclamare del tempo, reclamare degli spazi non lo farà avvicinare a voi. Al contrario se gli lasciate il massimo della libertà questo sarà molto interessante per lui perché tendenzialmente le donne non lo fanno e quindi vi darà un maggiore sex appeal, chiamiamolo così.